Per la dodicesima giornata del campionato Primavera 2 si affrontano il Carpi in maglia bianca ed il Cesena in maglia nera. Subito pericoloso il Carpi in apertura con il pallone che dopo un contrasto arriva al numero 11 Turei il tiro. La risposta da parte di Saro risponde il Cesena qualche istante più tardi il pallone. Sui sviluppi di una rimessa laterale arriva D'Urso il tentativo di sinistro palla di un soffio al lato della porta difesa da Rossi. Poi ancora Cesena sui sviluppi di un calcio d'angolo il pallone non arriva per un soffio al numero 5 Trasciani. Con l'immagine andiamo alla ripresa all'ottavo minuto del secondo tempo arriva il gol del vantaggio del Cesena. Lo mette a segno il capitano Oliver Urso con il sinistro palla in rete all'angolino e gol del vantaggio del Cesena. Ad inizio ripresa rivediamo anche il replay con il pallone che arriva D'Urso, il controllo con il destro e poi il tiro di sinistro che non lascia scampo al portiere avversario. Nel finale al 45esimo della ripresa arriva il gol del raddoppio sempre del Cesena. Il pallone da andiaie per Babbi. Il primo tentativo non va a buon fine. Riaprò la tapina vincente dello stesso numero 9 del Cesena per il gol del 2-0. Lo rivediamo anche in questo caso il replay con il suggerimento per Babbi il tiro. La risposta da parte dell'estremo difensore Rossi e poi ancora Babbi per il 2-0. Nel finale al quarto minuto di recupero in decisione della retroguardia della formazione bianconiera. Il pallone viene recuperato e messo in rete da Saporetti. È il gol del 2-1 al quarto minuto di recupero del secondo tempo. Rivediamo anche in questo caso il replay con il Saporetti che appoggia a porta vuota ma non c'è più tempo perché di lì a poco arriva il tre vicefischio finale con il Cesena che spugna dal campo di Carpi e vince per 2-1.